ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi prepariamo un impacco per capelli a base di carota qui l'ho pelata e l'ho praticamente tagliata sottile vado ad aggiungere a questa carota un bel bicchiere di acqua a cui andrò ad aggiungere anche tre cucchiai di semi di lino senza fare tutto il danno che sto per combinare io allora la carota ha moltissime proprietà è ricca di selenio magnesio zinco vitamine del gruppo a b c e d e quindi ha tantissimi praticamente sali minerali e cose che fanno bene i nostri capelli sono andato ad aggiungere anche delle foglie di alloro rosmarino e salvia che sono appunto molto importanti soprattutto per chi ha i capelli molto grassi come ad esempio i miei per chi anche vuole capelli belli lucidi la carota inoltre ha anche altre proprietà infatti noi sappiamo che è un antiossidante per questo che questo impacco lo consiglio soprattutto in questo periodo estivo che si sta incominciando ad avvicinare perché aiuterà i vostri capelli a proteggerli dai danni del sole il gel di semi di lino invece districherà moltissimo i vostri capelli rendendoli più lisci e molto più lucidi dopo averlo fatto bollire per circa tre minuti vado a colare tutto l'impacco per far uscire tutto il succo di carota e ma anche il gel di semi di lino quindi un'operazione per cui dovrete perdere qualche minuto io sto facendo una piccola dose perché mi sono ulteriormente tagliate i capelli quindi non ne preparo tantissimo se avete capelli un po più lunghi sicuramente dovrete mettere appunto una carota in più e raddoppiare diciamo le dosi di questo impacco dopo che l'ho colato appunto accuratamente e ne vado ad aggiungere una piccola dose di miele che anche questo un ingrediente molto idratante così come anche comunque la carota e vado ad aggiungerlo mentre l'impatto ancora caldo di modo che si sciolga facilmente come vedete non è molto denso nonostante abbiamo aggiunto i semi di lino questo perché non messi pochi perché non volevo una consistenza gelosa e ma gli ho dato una consistenza appunto che potesse essere facilmente spalmabile anche senza colare questi sono i miei capelli come vedete ho fatto da poco anche il colore più scuro e quindi sono comunque molto trattati e sono diventati un po duri e con le punte molto secche e vado a pettinarli e vado a distribuire l'impacco proprio direttamente sulla cute e questo perché non è solo un impacco appunto che ci aiuta a mantenere belli capelli ma anche curativo per per la cute e quindi vado a distribuirlo partendo proprio da lì in questo impacco ho voluto aggiungere anche un cucchiaino scarso di balsamo e perché questo impacco che è molto idratante serviva qualcosa per rendere i capelli comunque un po più morbidi visto che mi sono duri perché ho fatto proprio il colore in questo video ho fatto il colore e ancora da poco quindi sono andata ad aggiungere un po di balsamo e l'ho semplicemente shakerato all'interno della della bottiglietta dopo che l'ho distribuito su tutta la cute vado a pettinare i capelli e vado ad aggiungere l'ultima parte parte dell'impacco direttamente sulle punte una volta finito questa operazione do un'ultima pettinata per distribuire bene il prodotto all'interno proprio dei capelli e massaggiarlo di modo che facciamo anche un massaggio un po stimolante per la cute vado poi a coprire i capelli con un turbante o un sacchetto di plastica insomma vedete voi e lascio in posa questo impacco per almeno 30 minuti che è il tempo minimo però più lo tenete e meglio sarà nell'attesa ho preso un po di miele che io tengo solitamente in questi pottini dove ci sono le lenti a contatto e lo vado a distribuire su tutto il mio viso il miele come vi dicevo è un ingrediente fortemente idratante che aiuta la pelle anche in caso di macchie inoltre quello che ho io essendo comunque biologico ed essendo molto molto denso aiuta con un leggero massaggio a eliminare le cellule morte senza utilizzare l'azione appunto di una polvere scrabbante tipo il bicarbonato il sale o lo zucchero che solitamente andiamo ad utilizzare e poi c'è anche un profumo buonissimo che ti fa venire voglia di mangiarlo dalla mattina fino alla sera e comunque lo distribuisco su tutto il viso e una volta appunto che ne ho fatto uno strato bello generoso lo vado a massaggiare con le mani questo appunto massaggio essendo il miele molto molto denso aiuterà e anche molto appiccicoso aiuterà quindi a eliminare le cellule morte con un'azione molto molto delicata quindi lo consiglio soprattutto a chi ha la pelle delicata e andando quindi a di trattare la pelle ma anche ad eliminare le macchie perché ha questa azione leggermentissimamente schierente lo lascio in posa almeno 10 minuti se di più bene altrimenti 10 fanno bene e poi vado a lavarmi la faccia e i capelli questo è il risultato finale come vedete i capelli si pettinano facilissimamente non ho aggiunto altro bassamo perché l'avevo già messo all'impacco quindi ho semplicemente fatto lo shampoo come lo faccio normalmente di solito e i capelli appunto risultano ispessiti e molto molto lisci districati e molto puliti soprattutto perché abbiamo usato le erbette e questo poi è il risultato finale e come vedete i capelli sono molto lucidi anche se purtroppo la telecamera fa sempre fatica a mettere a fuoco quando mi punto una luce molto forte addosso io comunque spero che questo lasciate un like al video se vi va e iscrivetevi per non perdere i prossimi video e se vi va e iscrivetevi per non perdere i prossimi video